Avellino, una squadra forte, una squadra costruita per stare nei piani alti, poi durante il mercato di Genesi sicuramente si rafforzerà, ha preso già un grande giocatore come D'Angelo, allenatore parla da sé, è uno che ha fatto l'anno scorso la Serie B, quindi è una partita tosta, una partita difficile, però non vedo l'ora di affrontarla anche perché i nostri ragazzi ci dobbiamo riscattare su tutti i fronti, anche perché stiamo facendo le ultime due partite non abbiamo fatto benissimo, soprattutto in casa, però a Castellammare abbiamo avuto una prova d'orgoglio, quindi mi aspetto dai ragazzi la voglia e la grinta di poter vincere anche questa partita, anche se è un pochettino non tanto facile. Questa sosta ci ha fatto bene anche perché abbiamo recuperato soprattutto a livello fisico e soprattutto a livello mentale qualche giocatore, quindi è un buon viatico, è arrivato qualche ragazzo nuovo, quindi ha dato ancora di più linva e più convinzione in tutti quanti noi, perché vedere persone nuove è sempre positivo, ripeto, per quanto mi riguarda non vedo l'ora di arrivare a sabato per affrontare questa grande squadra.